Ed ora in diretta dall'Empire Stair Building in Kansas City, sta per andare in onda l'incontro di pugilato valevole per il titolo mondiale fra Scazzoman e Non Mi Fai Paura. Buon divertimento ai più tardi. 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 e guantoni bianchi. Andiamo via all'incontro. Vai! Picchiazzola, vai! Vai, picchiazzola! Stai dentro il profilo di un po' via? Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Perché hai paura? Guarda! Guarda, hai paura! Vieni, sui due! Guarda, 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 guard Grazie a tutti. Grazie a tutti.